Siamo con Francesco Pachinetti! Madonna quanto tempo! Ma che bello sei! Sei live! Siamo live, siamo a San Siro Guardate è arrivato anche il sole quindi speriamo, incrociamo le dita anche voi a casa fate la danza del sole mi raccomando e attendiamo con ansia l'arrivo dei ragazzi e lo stadio sarà pieno e quindi sarà una grande emozione per tutti dopo sette anni rivederli insieme sul palco insomma sarà bello per voi, per noi e per tutti quelli che ci seguiranno anche ovviamente sul nostro portale grazie, grazie del lavoro che fate grazie, grazie, grazie